Udienza preliminare oggi presso il Tribunale di Vallo per decidere sul rinvio a giudizio dei quattro indagati per la morte dei Sub nella Grotta degli Occhi di Palinuro. Rischiano il processo con l'accusa di omicidio colposo Roberto Navarra, titolare del Diving Pesciolino Sub, Stefano Davec e Marco Sebastiani, entrambi istruttori e dirigenti della Big Blue School di Roma, dove i Sub avevano preso il brevetto un mese prima dell'incidente e Annalisa Lupini, moglie di Davec. La tragedia è il 30 giugno del 2012. Durante un'immersione persero la vita Panaiotis Telios, Susi Cavaccini, Andrea Pedroni e la guida Douglas Rizzo. Nell'udienza di oggi il giudice Valerio Acampanile dovrà decidere anche sulle eccezioni presentate dal sostituto procuratore in merito alla posizione di Navarra, per il quale la procura ha chiesto un rinvio a giudizio sia come persona fisica che quale amministratore e quindi legale rappresentante del Diving di Palinuro. Nell'udienza del 1 ottobre gli avvocati Silverio Sic e Benedetta Sirignano hanno depositato le istanze per la costituzione di parte civile relative ai parenti fino al terzo grado di Panaiotis, la più giovane delle quattro vittime. In più occasioni lo zio del ragazzo Pietro Raskilla si è detto sorpreso dell'assenza tra le parti civili dell'amministrazione comunale di Centola Palinuro, località che fa del turismo e della subacquea la prima fonte di vita. Navarra difende a denti stretti la professionalità della sua scuola. «È stata una fatalità, un terribile incidente, ha precisato, ma non significa che sono freddo e distaccato, soffro ogni giorno per quanto accaduto, non esiste nulla al mondo che possa nare una ferita così grande. Mi sento impotente, ma sono anche certo che non avrei potuto fare di più né prima né durante né dopo per salvare Panaiotis, Andrè e Susi». Voglio ricordare e conclude che il mio Douglas vale quanto gli altri tre nella grotta degli occhi hanno perso la vita, quattro esseri umani.